Oggi ragazzi, video veramente importantissimo, video importantissimo perché andiamo a parlare di un dato, di un'analisi, che è letteralmente in grado di salvarti il culo. Infatti stiamo vivendo la fase più facile di mercato ragazzi, nel mondo delle cripto, in questo momento la fase è facilissima, lo so che può sembrare un paradosso, ma psicologicamente sì, è complicata, mentre a livello gestionale, a livello pratico, questa è la fase più facile in assoluto, si aspetta il momento giusto, si accumula con una strategia, con una visione e va via così. La parte complicata, i veri cazzi amari ragazzi, arriveranno all'inizio del prossimo ciclo, quando sarà veramente difficile gestire le emozioni, difficile gestire il portafoglio, perché avremo delle fluttuazioni così importanti, ragazzi, che abbiamo bisogno di quanta più freddezza e oggettività possibile per gestire i nostri portafogli. Vi sto parlando dell'analisi on-chain. Ragazzi, chi la fa, almeno in Italia, ho guardato parecchi competitor che fanno questo tipo di analisi, la fanno molto spesso male. Mi ricordo ancora, nello scorso ciclo, con l'analisi on-chain, si diceva, ah, Bitcoin è un milione, ma poi, in realtà, c'erano dati molto precisi che, se presi nel modo giusto, potevano darci indicazioni della fine di un bull market, così come anche dell'inizio di un bull market. Basta saperli interpretare. Tra l'altro, ragazzi, sono dati molto costosi, quindi li andiamo a vedere insieme ora qua, su questo canale, ma all'interno della nostra Academy abbiamo aggiunto questa sezione dove ogni settimana facciamo analisi on-chain con questi dati molto costosi che costano effettivamente un abbonamento mensile anche di 100-200 dollari, dipende fino a che livello. Noi abbiamo accesso a un buon livello, ragazzi, e la portiamo per i nostri studenti in Academy. Vi ricordo che le istituzioni sono aperte, vi lascio il link sotto in descrizione, avete tempo fino alla fine di questa settimana per entrare oltre alla costruzione dei due portafogli, da 1.000 dollari, da 10.000 con target 100.000, oltre al copy trading, quindi non so quanta roba vi dobbiamo dare in più. Ragazzi, andiamo a vedere. Per esempio, qui possiamo vedere il numero dei bitcoin address, ok? Quindi quanti bitcoin address ci sono in questo momento, come potete vedere, è un dato in crescita. Abbiamo raggiunto un nuovo all-time-I proprio nel settembre del 2023. Poi andiamo a vedere quanti sono i bitcoin address senza zero balance, quindi quanti bitcoin address, quindi quanti wallet si sono creati. E da che cosa possiamo vedere da questo grafico? Che i bitcoin, ragazzi, i wallet di bitcoin nel tempo hanno continuato ad aumentare, questa riga gialla, rispetto al prezzo. Vedete, il prezzo ha dei momenti di bull market, dei momenti di bear market, ma i wallet nuovi creati di bitcoin continuano ad aumentare. Siamo arrivati a 48 milioni in questo momento, ok? Poi, ragazzi, questo invece è un dato molto importante che ci può aiutare a capire in che situazione siamo di mercato, perché ricordatevi che i profitti si fanno quando la gente è ancora in preda all'emozione, all'euforia, perché noi fondamentalmente, quello che faremo, quello che facciamo in Academy, è speculare sul prossimo ciclo. La battaglia liberale di bitcoin, ragazzi, la supporto con la divulgazione, facendo condivisione di contenuti molto importanti, come le interviste, raccontando a che cosa serve veramente bitcoin, ma il nostro obiettivo è portarci a casa i profitti. E come facciamo? Lo facciamo, ragazzi, guardando questi dati. Per esempio, bitcoin, qui possiamo vedere il numero degli address, quindi dei wallet di bitcoin, che in questo momento sono in profitto. E quindi, ragazzi, come potete vedere, ora abbiamo lo stesso numero di wallet in profitto che c'era in pieno bull market al top di mercato. Che cosa significa? Significa che la maggior parte di quelli che in questo momento hanno comprato bitcoin in questo ciclo sono fortemente in profitto, esattamente quanto nel pieno bull market del 2021. Un dato molto importante, ragazzi. Lascio a voi poi, ovviamente, capire che cosa significa. Andiamo avanti? Andiamo avanti, perché, ragazzi, di dati ce ne sono veramente tantissimi. Questo è un ulteriore dato. Guardate qua. Sempre qui è spiegato, in realtà, poi da mano. Lo fa in Academy, ragazzi. Io vi invito veramente a sfruttare questa quasi ultima apertura, perché ormai i wallet sono quasi fatti, quindi non so quanto ancora terremo aperta all'Academy. Fino alla fine di questa settimana entrate. Qua, ragazzi, come potete vedere, Manu va a spiegare, ok, i top di mercato di numero di address in profitto rispetto, appunto, a 2021. E guardate la fase di supporto, la fase di resistenza. Poi andiamo a vedere, ragazzi, l'ash rate di bitcoin, che, avete visto, è in una burrata infinita da quando praticamente esiste. Quindi, nonostante, e questo l'abbiamo visto anche ieri, guardando il grafico, nonostante abbiamo avuto un bear market molto intenso su bitcoin, abbiamo un hash rate che continua a essere alto. Che cosa vuol dire hash rate alto? Vuol dire che la difficoltà, oltre che la sicurezza, ovviamente, della rete, ma la difficoltà di produrre bitcoin aumenta tantissimo per i miners, che quindi devono sostenere dei costi aggiuntivi per continuare a essere in profitto producendo bitcoin. Che cosa significa? Significa che con l'alving del 2024, che andrà a dimezzare la ricompensa dei miners in bitcoin. Ragazzi, bitcoin può fare solo una cosa, o sale, o l'ash rate è costretto a scendere. Ma guardate quante volte è sceso. Ben poco. Questo che vedete qui, questo dump, è stato successivo al ban della Cina. Quindi, quando i miners hanno traslocato, fondamentalmente, dalla Cina agli Stati Uniti. Ragazzi, quanto valore vi sto dando in questo momento? Cioè, non so io. Lasciatemi un like, almeno, e iscriviti al canale. Ok? Quindi, guardate qua. L'ash rate, come sta andando, vuol dire che quindi la rete è molto più sicura, ma allo stesso tempo, produrre bitcoin è molto più difficile, è molto più costoso per i miners, e quindi, quando arriverà l'alving di bitcoin, lo sarà ancora di più, perché la ricompensa per loro è dimezzata, e quindi il prezzo, ragazzi, deve per forza salire, per farli tornare in profitto, oppure è l'ash rate che andrà a scendere. Andiamo avanti, ragazzi, perché ne abbiamo di dati, eh. Andiamo avanti. Guardate qua. Ancora una volta, la bitcoin difficulty regression model. Guardate qui. Ragazzi, non vi posso dire tutto, perché veramente, se no diventa, qui ancora, la minus revenue fee. Guardate. Andiamo a leggere anche. Un buon supporto per i miners, così vi faccio vedere anche un'analisi di Manu, che trovate, ragazzi, in Academy, vi ricordo, aperti fino alla fine della settimana. Perché poi dicono che noi non diamo valore, no? Quindi io voglio dimostrarvi che all'interno dell'Academy, se abbiamo il 70% di tassi di rinnovo, ok, ragazzi, il motivo c'è, il 70% di tassi di rinnovo, con upgrade. Quindi chi è entrato col trimestrale è passato all'annuale. Un motivo ci sarà. Un buon supporto per i miners è arrivato a partire da inizio del 2023 con l'avvento degli ordinals, sostanzialmente NFT, su rete bitcoin. Questo, come dicevo, ha supportato i miners a causa delle fee pagate sulla rete con un picco a maggio 2023, con segno dei picchi che siano durante i bull marketing in corrispondenza alle congestioni della rete. Io non so se vi ricordate quella fase di mercato. Noi ce la ricordiamo molto bene perché l'abbiamo analizzato. Nei prossimi mesi del 2024 avremo l'halving e quindi il dimezzamento della ricompensa ai miners e questo significa che a parità di altre condizioni il costo sale. Per le mining farm più riditizie si stima non essere più 24.000 ma 15.500 dollari che però, dopo l'halving, avrebbe l'equivalente di un costo di 31.000 dollari. In parole povere, o la shrate corregge e di solito si ha una correzione in concomitanza con la correzione del prezzo o per sostenere la spesa deve salire il prezzo sopra quei livelli come minimo. Ragazzi, non può succedere altro o questo o quello e però abbiamo visto come anche con i fondamentali di Bitcoin con l'arrivo degli istituzionali e altre mille robe ragazzi, alcune le vediamo all'interno di questo video, alcune le vediamo sull'Academy le possibilità ragazzi sono a favore ovviamente di un aumento di prezzo. Qui abbiamo anche possiamo anche vedere quanto i miners quindi coloro che producono Bitcoin stanno facendo profit stanno mandando sugli exchange quindi quanto vendono i miners perché è importante questo? Perché ovviamente i miners sono la principale pressione di vendita sul prezzo dei Bitcoin soprattutto ragazzi abbiamo visto come ci sono pochissimi i Bitcoin che vengono spostati all'interno dell'exchange io vi sto dando troppo valore forse devo smetterlo lasciatemi un like e quindi chi sta vendendo? Principalmente i traders e i miners ragazzi a questi prezzi perché ovviamente loro hanno un business da portare avanti delle spese da sostenere e per farlo devono vendere Bitcoin quindi è importante capire quanto i miners stanno vendendo e nonostante il prezzo sia laterale in una fase di congestione i miners stanno vendendo al top guardate qua quanto stanno picchiando giù rispetto al 2021 cioè ragazzi sarà sei volte tanto ok? Quindi i miners stanno vendendo a raffica in questo periodo e quindi questo si può analizzare in più modi diversi questo invece è l'indicatore che si è arrivato fino a qui ti consiglio di studiarti anche questo tipo di indicatori oppure vieni in academy perché questi ragazzi sono indicatori invece che sono in grado di predire l'inizio è la fine di un bull market più che altro è la fine di un bull market che è la cosa più importante perché è dove ci interessa capire come prendere profitto quindi ragazzi quando andiamo a vendere andiamo a vendere prima che sia troppo tardi prima di rimanere col cerino in mano ecco perché la nostra strategia ragazzi non è basata sul caso ma è basata su una serie di elementi che andiamo ad aggiungere sempre di più in academy una mano che passa il tempo perché abbiamo ben in mente chiaro con l'esperienza passata di come andare a sfruttare questo mercato per aumentare il nostro benessere finanziario ed è l'obiettivo della nostra academy del nostro portafoglio del nostro lavoro e di quello che stiamo facendo perché questo ragazzi è un lavoro a tutti gli effetti quando io mi dico che lavoro tutti i giorni su questa roba è perché ragazzi passiamo le ore a studiarci e a fare questo tipo di situazioni ok quindi io spero veramente di averti aperto un po' la mente di averti illuminato con queste informazioni mi raccomando iscriviti al canale perché comunque contenuti del genere non credo che li fanno tutti i ragazzi di solito vi fanno vedere i soliti graficini eccetera eccetera quindi iscrivetevi al canale lasciatemi un bel like e noi ci vediamo alla prossima puntata e vi aspetto in anche link sotto in descrizione